Lettura del Vangelo secondo Giovanni In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio, tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni, e gli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di Lui. Non era Lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di Lui. Eppure, il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i Suoi, e i Suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio. A quelli che credono nel Suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne, e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la Sua gloria, gloria come del Figlio unigenito, che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Pace bene amici, e ben ritrovati a questo nostro appuntamento con la liturgia festiva del secondo rito ambrosiano, domenica dopo Natale. E la liturgia ci riporta sempre a fissare la nostra attenzione su quello che è il mistero del Natale. Giovanni, il proloche che abbiamo appena sentito proclamato, racconta a suo modo, e cerca in qualche modo l'Evangelista di descriverci, di riflettere, di presentarsi questo mistero. E non lo fa attraverso la narrazione di fatti, di eventi, di parole, come avevano già fatto prima di lui Matteo e Luca, ma semplicemente attraverso una riflessione teologica, una meditazione, un inno che Giovanni innalza descrivendo, o tentando di descrivere a suo modo l'esperienza di questa incarnazione. Il verbo si è fatto carne, e il verbo era presso di Dio, e il verbo era Dio. In principio era Dio. E non esiste niente di tutto quello che noi possiamo contemplare, vedere, toccare, se non è passato attraverso le sue mani. Cioè tutto quello che è stato creato, che vediamo, che contempliamo, nell'immensità della creazione, tutto questo è passato attraverso le mani del verbo, è stato fatto attraverso il verbo. Ecco, questo è il punto di partenza. E Giovanni poi dice, afferma, che questo verbo si è fatto carne. E qui sta tutto il mistero dell'incarnazione. Questo desiderio dell'uomo di arrivare a Dio, di superare se stesso, di soddisfare i desideri più grandi, più intimi del suo cuore, ecco, Dio, attraverso l'incarnazione del figlio, del verbo, lo ha realizzato. Il verbo, colui che è intoccabile, che è impassibile, che è l'eterno, che è al di fuori del tempo, questo verbo si è reso vicino all'uomo, si è fatto come lui, come noi. E questo ci rincuora e ci fa capire che noi non dobbiamo, o dovrebbe farci intendere capire, che noi non dobbiamo andare al di là o al di sopra del cielo per raggiungere e toccare questo Dio, perché Dio ha annullato le distanze, rendendosi lui vicino a noi, a ciascuno di noi. Questo è il mistero del Natale. E si è reso impotente attraverso la figura di un bambino in fasce e di fronte a un bambino in fasce nessuna paura, perché si trova, questo bambino, in uno stato di bisogno assoluto, ha bisogno di tutti quanti per poter sopravvivere e vivere. E allora, in questo mistero del Natale, noi dobbiamo cercare a destra, a sinistra, in alto, sopra, perché Dio si è reso vicino, palpabile, toccabile, visibile, udibile da ciascuno di noi. E dobbiamo cercarlo quindi attorno a noi, dentro il nostro cuore, dentro la nostra vita, dentro la situazione dell'adesso, del presente, perché nonostante le cose non vadano proprio bene, lui c'è e c'è sempre. E rimane sempre l'Emmanuele, il nostro compagno di viaggio. Ecco, l'Evangelista descrive questo mistero utilizzando dei termini belli, appropriati, che soddissono anche il nostro desiderio di approfondire questo mistero. Venne tra i suoi il verbo. La seconda lettura di oggi ci fa capire ulteriormente chi era questo verbo. È Paolo che scrive ai Colossesi. Fratelli, il figlio del suo amore è immagine del Dio invisibile, primo genito di tutta la creazione, perché in Lui furono create tutte le cose nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è priva di tutte le cose e tutte in Lui sussistono. Questo è il Gesù di Nazare. Questo è il Gesù bambino, colui che ha creato l'universo, che si annienta, si umilia come Dio per entrare nella nostra storia, per rendersi un Dio vicino a noi. È il mistero del Natale che noi, più che comprendere, dobbiamo rimanere in un atteggiamento contemplativo di stupore, di meraviglia e di ringraziamento. Pace e bene, amici, a risentirci alla prossima domenica. Pace e bene, amici, Pace e bene, amici, a risentirci alla prossima domenica. Pace e bene, amici, a risentirci alla prossima domenica.